Nella prima sessione di lavori di giugno del Consiglio Provinciale, presentando la propria relazione sull'attività 2021 al Plenum, il Presidente del Comitato Provinciale per le Comunicazioni Roland Turk ha riferito di un calo dei conflitti tra clienti e operatori di telefonia. Si è appellato ai Presidenti Mattei e Compacera affinché si esprimessero nelle trattative a Roma sulle future competenze dei comitati regionali. Ha riferito del sistema di controlli dell'utilizzo dei fondi pubblici da parte delle emittenti. Consiglieri e consigliere hanno sollevato il tema del rapporto tra politica e media che dovrebbe essere caratterizzato da maggiore indipendenza reciproca. Anche la difensora civica Gabriele Morandel ha illustrato la propria relazione indicando quali temi principali dei 1150 reclami, le misure di contenimento della pandemia, le novità introdotte dalla legge provinciale territorio e paesaggio, gli scogli burocratici per accedere ai contributi rilevati dalle associazioni e il pagamento retroattivo di anni di lavoro ai fini pensionistici. Ha riferito poi di una crisi di fiducia verso un'amministrazione che tende a chiudersi alla cittadinanza anche con la digitalizzazione. Consiglieri e consigliere, in primis la Presidente Rita Mattei, hanno evidenziato che a fronte di queste difficoltà il lavoro della difesa civica è ancora più prezioso per i cittadini. Approvato il conto consuntivo del Consiglio con una dotazione di circa 19 milioni, il Plenum ha dato il via libera anche alle proposte dei Frei Heitlichen di continuare a promuovere la produzione di energia elettrica con impianti fotovoltaici da parte di famiglie e imprese e l'autosufficienza energetica degli edifici pubblici, promuovere iniziative legislative di tutela dei locatori dagli inquilini morosi seriali. Quella del Team K per finanziare l'acquisto di un secondo paio di calzature ortopediche l'anno per le persone disabili e promuovere nel settore pubblico la coprogettazione in ambito sociale. Quella di Sui Tiroler Frei Heit ed Enzian per trattative per il ripristino delle competenze autonome erose. Approvato infine anche il voto di SVP e Sui Tiroler Frei Heit per un registro provinciale delle organizzazioni di volontariato e la semplificazione degli obblighi previsti per la relativa registrazione. E quella delle SVP è cofirmata da Fratelli d'Italia per una riforma del reddito di cittadinanza laddove produce effetti negativi sul mercato del lavoro.